Andiamo adesso a fare un ulteriore esercizio di memorizzazione concettuale attraverso il questionario, ci entriamo da questa casellina in verde, ci si aprirà un foglio Excel e questo foglio Excel è immediatamente lavorabile nel senso che io posso rispondere alle domande, qui se rispondo 1 la risposta esatta cliccando nel bianco va bene, se rispondessi 2 qui mi dirà che la risposta non è corretta. Quindi come vedete questo foglio è immediatamente lavorabile, però ci sono da fare tutta una serie di cose che poi è necessario salvare per ritrovarsene successivamente e qui questo foglio Excel si trova su internet quindi non ti farebbe salvare le modifiche, quindi la prima cosa da fare è salvarlo sul tuo computer, quindi file, salva con nome, sfoglia, salviamolo su desktop, ecco questionario. Salva, adesso qui chiudiamo, andiamo sul desktop, eccolo questionario e andiamo a lavorare il questionario. Quindi come funziona questo strumento? Qui io inserisco il numero della domanda, quindi c'è una domanda con tre opzioni di risposta, come abbiamo visto prima se inserisco il numero sbagliato mi dice che la risposta non è corretta. Nel caso in cui io dia una risposta non corretta e lo vedo da qui posso innanzitutto cliccando sul numero della domanda andare alla casellina che posso per esempio colorare di giallo e salvare per far sì che poi la volta successiva che aprirò il questionario potrò subito vedere che a determinate domande ho dato una risposta non corretta. E quindi concentrarmi innanzitutto su quella a cui la volta precedente non ha dato risposta corretta. Torno su e tornando su magari se a questa domanda ho dato una risposta non corretta da qui e così per tutte le domande come vedete diapositiva posso andare ad aprire la diapositiva relativa a quell'argomento in ordine alla quale ho dato una risposta non corretta. Questa diapositiva dura un minuto perché qui il questionario tendenzialmente bisogna metterci un minuto per ogni risposta non tutto il pomeriggio e tutta la sera. Ovviamente si può anche riaprire però io ti suggerisco di concentrarti in questo minuto e di cercare la soluzione alla risposta sbagliata che hai dato. In questo metodo Happy Studio come ho detto anche nella presentazione del corso propongo anche la traslitterazione perché questa è una cosa che una volta fatta tu non ti scorderai mai più di questo concetto. La traslitterazione o parafrasi che dir si voglia sono sinonimi. Proviamo a rispondere a due domande e a vedere come si fa. Che cos'è il diritto? Opzione 1. L'insieme di tutte le norme che regolano l'azione umana. L'insieme delle norme giuridiche. L'insieme delle norme giuridiche e sociali. Ovviamente in questo caso la risposta esatta è la numero 2. Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche. Cliccando qui io vengo portato immediatamente alla casella dove devo scrivere la parafrasi della risposta esatta. Quindi come vedete qui viene riportata la domanda. Che cos'è il diritto? La risposta esatta è l'insieme delle norme giuridiche. E qui io vado a fare la parafrasi. Che cos'è la parafrasi? La parafrasi consiste nel dire la stessa cosa che c'è scritta nella risposta esatta con una frase diversa. con una sintassi diversa oppure ribaltando il soggetto con il complemento oggetto. Comunque esprimendo lo stesso concetto in qualunque modo si voglia che è espresso nella risposta esatta. Una volta che io ho fatto questo siccome per scrivere una frase per esempio negativa o ribaltando il soggetto con il complemento oggetto ci devo pensare io non mi scorderò più di che cos'è il diritto. Quindi il diritto è l'insieme delle norme giuridiche. Potremmo scrivere per esempio tutte le norme giuridiche sono il diritto. Ecco quando io ho pensato a questa frase e l'ho scritta bene non mi scorderò più la definizione di diritto. Oppure lo posso fare con una frase negativa cioè andando a dire che cosa non è in questo caso il diritto. Il diritto non è l'insieme di tutte le norme che regolano l'azione umana ma solo e soltanto di quelle giuridiche. Ecco anche questo è un ottimo modo di costruire una frase negativa per non dimenticarsi mai più del concetto che stiamo studiando. Cliccando qui posso tornare dall'altra parte proviamo a rispondere a un'altra domanda facciamo questo in cosa consiste l'obbligatorietà della norma giuridica opzione 1 nel fatto che in caso di mancata osservanza è prevista l'applicazione di una sanzione nel fatto che va obbligatoriamente osservata fino a che un giudice non ne dichiari la decadenza ovviamente la risposta esatta è la numero 1 ci mancherebbe che il giudice e il governo dichiarassero la decadenza di una norma giuridica perché essi non rappresentano il potere esecutivo il giudice rappresenta il potere giudiziario il governo e il potere esecutivo quindi una norma la può cambiare solo il Parlamento o comunque la fonte di diritto come abbiamo visto durante la sezione fonti del diritto che era autorizzata a emanare la decadenza le norme giuridiche in quella materia ecco anche in questo caso quindi qui abbiamo risposto in maniera esatta non andremo a colorare la cella andiamo a fare la parafrasi quindi in cosa consiste l'obbligatorietà della norma giuridica della domanda la risposta esatta è nel fatto che in caso di mancata osservanza è prevista l'applicazione di una sanzione e qui come potremmo scrivere l'applicazione di una sanzione è sempre prevista nel caso di mancato rispetto di una norma giuridica ecco anche in questo caso io questo concetto qua quando ho ribaltato la risposta esatta con un'altra frase scritta con una sintassi diversa io per scrivere questa frase con una sintassi diversa ci devo pensare quando l'ho scritta non mi scorderò mai più di questo concetto quindi ti suggerisco di fare questo questionario che non è un questionario lunghissimo sono soltanto 22 domande e alla fine del quale se utilizzerai questo metodo io ti garantisco che in pochissimo tempo sarai padrone di tutti i concetti di introduzione allo studio del diritto sia riguardo alle norme giuridiche che alle fonti del diritto non mi scorderò è un'indicazione il diritto